Otto sono i minatori, ammazzati a gesso lungo. Ora piangono i signori e gli portano dei fiori. Hanno fatto in paradiso un corteo lungo, lungo. Da quel trono dove è assiso, Gesù Cristo gli ha sorriso. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna, meno in pischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la vara, minatore di Zolfara. Hanno fatto un gran corteo con i quattro evangelisti. Tutti quanti li hanno visti con San Marco e San Matteo. Con San Luca e San Giovanni e i compagni che da prima lavorando nella mina. Sono morti in questi anni. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna, meno in pischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la vara, minatore di Zolfara. Dopo la dimostrazione, Gesù Cristo li ha chiamati. Solfara Trebonella, tre morti. Solfara Tomminelli, ventitré feriti. Solfara Trabia Tallarita, otto morti, dieci feriti. Solfara Gesso Lungo, otto morti, sessantaquattro feriti. Gesù Cristo li ha chiamati. Con la sua benedizione li ha raccolti tra i beati. Poi levando poco poco la sua mano giustiziera. Con un pulmine di fuoco ha distrutto la miniera. Belga todas e che cosa La sua benedizione diывают, la sua benedizione, metà joined a me, undertitutto noi da mio ragazzo chiamati. Galera dal contnade la sua benedizione insidore del suo solíveismo.